Per la prima giornata di qualificazione della Lorex Cup scendono in campo Torza Pienza e Ostia Mare. Torza Pienza in maglia giallo-verde in avanti in avvio di partita qui sui sviluppi di un calcio di punizione, nessun problema per Placidi. Poi ancora Torza Pienza che si fa vedere nel corso del primo tempo qui l'attentativo, che però termina alto sulla traversa, poi ancora il Torza Pienza qui con il cross di Ciccotti per Giovannettone. Nulla di fatto, prova a rispondere l'Ostia Mare con iniziativa per via centrali, chiude però la retroguardia della Torza Pienza, ancora l'Ostia Mare pericolosa su calcio piazzato, gara a vara di emozioni, sviluppi di un corner, ci prova ancora l'Ostia Mare, e nulla di fatto arriva alla parata da parte di Branchi e questa è l'ultima mozione del match che termina 0-0.